meta platform fa registrare un meno 15 per cento perché sono appunto uscite le earnings ieri sera alle ore 22 e ci sono novità sul fronte occupazionale degli stati uniti buongiorno a tutti io sono vincenzo penna di investire.biz e questa è caffè mercati quindi ben ritrovati benvenuti per chi è nuovo e buon caffè a tutti. Mi sposo subito sui grafici perché dobbiamo parlare di tantissime cose e nello specifico che cosa ha fatto Meta? Ebbene che cosa ha fatto Meta? Ieri alle ore 22 sono state rilasciate le trimestrali di Q1 e vi devo dire la verità le trimestrali sono state molto buone o meglio molto abbastanza buone quindi in linea rispetto a quelle che erano le attese leggermente più in alto ma il mercato ha premiato tra virgolette Meta con il meno 15 per cento in aftermarket. Perché questo? E tra l'altro questo è il grafico è aberrante questo grafico perché ha perso pensate un po' 200 miliardi di capitalizzazione di mercato ed è ritornata ai prezzi quindi di 400 dollari per azioni che non vedevamo dal 2 di febbraio quindi Meta nel giro praticamente di 15 20 minuti si è rimangiata due mesi di rialzi anzi quasi tre mesi visto che comunque siamo a maggio e questo la dice lunga la dice lunga su quello che c'eravamo ripetuti molto spesso del fatto che l'S&P 500 si sta muovendo solo grazie alle top 5 aziende e quindi nel caso in cui anche soltanto un piccolo tassello non va bene al mercato e adesso vi faccio vedere qual è il piccolo tassello beh succede quel che succede quindi meno 15 per cento nel giro di una di una notte anzi neanche una notte nel giro di 5 minuti ma prima di vedere che cosa è successo nel dettaglio vi ricordo che una persona su due che sta vedendo in questo momento il video quindi ci sei anche tu all'interno di questa statistica non è iscritta al canale quindi mi raccomando perché se vogliamo crescere se vogliamo aumentare la qualità dei contenuti dobbiamo per forza di cose aumentare anche gli iscritti e quindi anche le visualizzazioni quindi mi raccomando a voi non costa assolutamente nulla ci mettete due secondi ad andare poi sotto cliccare il tasto iscriviti e anche ovviamente like e anche ovviamente soprattutto commentate 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 perché ci teniamo particolarmente a sapere che cosa ne pensate che cosa magari valutate di migliorabile all'interno della rubrica e ovviamente che cosa volete andare ad analizzare le prossime volte tra l'altro questo sarà un e trovate ovviamente qui come vedete in sovraimpressione la la guida e ovviamente questa questo appuntamento di oggi per caffè mercati è leggermente particolare perché non andremo ad analizzare uno strumento nello specifico ma vi farò vedere un esempio di come ragiona magari un 3d investire punto biz quindi una nostra analisi intraday ma ci arrivo subito quindi mi sposto di nuovo sul grafico cioè sul sito per le earnings di meta allora tutti i dati estremamente positivi quindi eps sopra le aspettative fatturato sopra le aspettative continuano continua ad essere alto il fatturato derivante dalle dalle ads quindi dalle pubblicità però che cosa non è piaciuto ai mercati non è piaciuto questo quindi non è piaciuta la guidance quindi le aspettative sul q2 sul prossimo trimestre perché addirittura gli analisti si aspettavano meglio ancora diciamo gli operatori si aspettavano un q2 con un fatturato a 30 a 38 miliardi invece si sono visti annunciare un fatturato che può andare tra i 36 e i 39 miliardi quindi praticamente hanno visto non un numero preciso ma hanno visto una sorta di range che è un po troppo grosso diciamo per i loro gusti quindi il mercato non è piaciuto affatto questa cosa qui e poi secondo elemento che non vedete qui e adesso ritorno anche sul grafico di meta il secondo elemento fondamentale è che meta praticamente ha annunciato che diciamo un aumento del del proprio capex portandolo da 30 acqua la a 40 miliardi di dollari che cos'è il capex è semplicemente la liquidità che serve a meta per andare ad investire per andare diciamo ad immobilizzare in determinati settori che possono essere commerciale possono essere anche immobiliare volendo per quanto riguarda le infasture ma meta già ci ha anticipato che questi soldi li andrà a mettere per ricerca e sviluppo dell'intelligenza artificiale quindi questo non ha fatto assolutamente piacere perché comunque un 10 miliardi in più che impattano notevolmente sul cash flow dell'azienda non fa assolutamente mai piacere quindi meno 15 per attualmente siamo almeno 13 36 quindi sta leggermente recuperando però la voragine è davvero enorme da recuperare e questo ovviamente ha impattato non poco sull'indice s&p 500 perché vedete che dai massimi poco prima degli earnings ha fatto registrare un meno un per cento che ovviamente è una cifra abbastanza significativa altro parametro che non ha fatto piacere ai mercati ma su questo ci ritorniamo perché eh bisognerebbe parlare soltanto di questo eh ieri il il dipartimento che si occupa ovviamente dell'analisi dei dati eh occupazione statunitensi ha rivisto eh le cifre delle buste paga perché voi sapete che eh diciamo i dati che vengono rilasciati mese dopo mese non sono dati reali al cento per cento ma la maggior parte per circa il sessanta settanta per cento viene calcolato in base a dei modelli statistici che fanno una media degli ultimi cinque anni noi l'abbiamo detto più spesso cioè l'abbiamo detto spesso l'abbiamo detto più volte che eh i dati calcolati in questo modo qui soprattutto prendendo in considerazione quello che è stato lo shock estremo del covid perché prendono gli ultimi cinque anni in media avrebbero dato dei dati che sono molto più eh positivi rispetto alla realtà dei fatti e infatti eh il ricalcolo di ieri che era un ricalcolo basato sul Q3 2023 quindi il terzo trimestre del 2023 ha fatto ehm venire fuori ha fatto emergere proprio questa difficoltà ossia che se ben vi ricordate ehm nel Q3 parlavamo comunque di un mercato occupazionale estremamente forte eh adesso non ricordo i dati nello specifico ma stavamo all'incirca tra le duecento e le più trecentomila eh buste paga in più e addirittura con quelli che sono stati ricalcoli abbiamo visto addirittura un declino di cento novantadue mila posti di lavoro quindi quello che era un'economia forte è un mercato occupazionale forte fino a praticamente l'altro ieri adesso invece si mostra un mercato occupazionale debole e questo ovviamente la dice lunga sulla non la veridicità però sul calcolo effettivo dei dati soprattutto del mondo occupazionale che sono quelli là più lenti e eh secondo me andrebbe un po' rivisto il metodo di calcolo però è un discorso a parte che sicuramente faremo in uno speciale poi magari domani facciamo la diretta eh sul canale eh telegram di di investire.biz quindi andremo a vedere tutto nel dettaglio magari domani però quello eh su cui volevo soffermarmi oggi e eh volevo analizzarvi un po' appunto come operiamo noi giorno dopo giorno e tramite il trading live e ehm eh diciamo su cosa si basa la nostra analisi perché ad esempio prendo spunto da quella che è stata l'analisi di ieri su traders club quindi S&P 500 analisi eh valutiamo uno short eh da 5073 eccetera eccetera come abbiamo fatto ad arrivare a questa ehm a questo assunto beh eh c'è da dire che ieri era mercoledì quindi tutti i mercoledì alle ore 16 eh noi teniamo il trading live quindi tradiamo il live insieme a voi insieme soltanto a chi ha il conto con tribe.com slash it quindi vi invito ad andare sul sito tribe trovate il link qui sotto in descrizione aprirvi un conto di trading se non lo avete già se invece già lo avete ovviamente dovete capitalizzarlo non dovete capitalizzarlo ovviamente con 10 euro perché sarebbe una presa in giro e tra l'altro eh proprio questa settimana abbiamo abbassato ulteriormente gli spread passando pensate a uno 0,1 su euro dollar 0,2 su gbp 0,3 su ehm euro eh yen quindi sono eh degli spread altamente competitivi e quindi nulla non avete veramente scuse per non aprire un conto di trading con tribe perché avete il trading live avete il traders club avete eh trading con Ishimoku ovviamente avete la nostra assistenza che poi secondo me è la parte fondamentale quindi vi dicevo ieri trading live eravamo più o meno a questa soglia qui di prezzo quindi ore 16 eravamo sui 5080 5077 eccetera eccetera e eh stavamo valutando effettivamente che cosa fare eh sulle sull'indice S&P perché eh ci stava dando una marea di segnali eh short tra l'altro abbiamo raggiunto la zona di vuoto volumetrico indicata col biz profile che tra l'altro è gratuito solo se avete un conto di trading con tribe quindi aver raggiunto questa zona di vuoto volumetrico indicata dal biz profile tra i 5110 e i 5090 infatti non è a caso si è fermato proprio al millimetro in quella zona lì e stavamo appunto valutando uno short sull'S&P che era quello più debole rispetto al Nasdaq quindi che cosa abbiamo fatto ci siamo posizionati qui ho attivato due biz profile uno su base giornaliera che potete vedere qui eh eh in viola e in rosso eccolo qui viola e in rosso e l'altro invece su base H1 quindi orario che potete vedere in blu e ehm in in verde che mi diciamo mi serve tantissimo per fare scalping eh operazioni di scalping operazioni soprattutto di multi day perché perché il biz profile mi va a dire effettivamente come si evolve il prezzo all'interno delle eh determinate fasce di prezzo come ad esempio sta facendo adesso cioè quello che stiamo vedendo ad esempio adesso vi zoom un po' stiamo vedendo che eh tutta l'area tra i 5041 e i 5043 sta avvenendo effettivamente eh rotta a rialzo è un'area di tantissimo ehm tantissima partecipazione volumetrica quindi ci sono tantissimi ordini che stanno vedendo vasi all'interno di quest'area quindi una rottura a rialzo mi sta dicendo che praticamente il muro che invece c'era in precedenza è stato totalmente rotto quindi io dal punto di vista dei volumi riesco precisamente a vedere quando effettivamente abbiamo una rottura vera e non una rottura basata soltanto sulle candele ok quindi che cosa abbiamo fatto ieri beh ieri ci siamo eh eravamo appunto posizionati più o meno su questo eh su questo time frame qui quindi eravamo più o meno tra le 16 e le 16 e 20 orario in cui inizia il trading live e stavamo valutando proprio questa zona come eh zona altamente significativa dal punto di vista volumetrico avevamo detto che tra i 5082 e i 5077 se dovesse se eh diciamo avesse rifiutato questa zona dal punto di vista eh dei volumi anche sul time frame H1 perché sul time frame giornaliero eh c'era già un forte agglomerato volumetrico potevamo effettivamente valutare uno short cosa che infatti è stata segnata proprio nel gruppo Traders Club e addirittura abbiamo detto che se avesse rifiutato la zona dei 5072-73 quindi più o meno questa zona qui l'ultima zona eh di di ex supporto diciamo così potevamo effettivamente valutare uno short a ritest della stessa zona che appunto ritesta avvenuto alle ore 20 e 55 eh non stiamo entrando in posizione perché ovviamente alle ore 20 e 55 non stiamo sui grafici però eh per chi magari è eh è avvezzo ad operare la sera eh non si è fatto sicuramente eh sfuggire l'occasione perché era un retest praticamente palese poi poco prima degli earnings la volatilità era eh nettamente attesa quindi questo è giusto per farvi capire qual è il ragionamento che c'è dietro a un trade quindi non è che eh si va lì sul grafico e si va a vedere soltanto l'analisi tecnica no ma si vede l'analisi tecnica si vede l'analisi volumetrica si vedono anche i fondamentali perché ovviamente avevamo le earnings avevamo magari un incremento della volatilità avevamo delle notizie macroeconomiche come appunto quella che vi ho fatto vedere prima eh dei sentori eh che vanno al di là appunto di quello che è l'analisi eh tradizionale soltanto basata sull'analisi eh tecnica quindi se anche voi volete eh fare questa tipologia di analisi oppure se non siete in grado vi basterà ovviamente semplicemente seguire quelle che sono le nostre analisi giorno dopo il giorno e tramite il gruppo traders club e tramite il gruppo o meglio il webinar trading live che vi ricordo ancora una volta è totalmente gratuito per chi ha un conto capitalizzato in modo adeguato ovviamente con tribe.com slash it quindi trovate come sempre tutto qui sotto in descrizione ragazzi ehm è stato un piacere domani ci vediamo per la pensate un po' la sessione numero duecento di caffè e mercati che faccio io quindi mi raccomando perché sarà un eh diciamo un evento non un evento speciale però sarà particolare quindi staremo insieme fatemi sapere eh che cosa ne pensate di questa analisi che abbiamo fatto qui sotto nei commenti vi ricordo ancora una volta di iscrivervi al canale e mettere like e noi ovviamente ci vediamo domani mattina come sempre a caffè e mercati quindi buona giornata e buon trading a tutti ciao grazie a tutti